Barone, Reinasco, Di Biano. La città metropolitana di Torino ha ufficialmente il suo statuto, adottato dalla conferenza metropolitana con il voto favorevole dei sindaci di 180 comuni, pari a una popolazione di 1.857.701 abitanti. 17 le astensioni, 3 i voti contrari. Prima dell'approvazione, lo statuto è stato sottoposto a consultazione di tutti i sindaci, con 11 incontri in tutte le aree territoriali della città metropolitana e con la consultazione delle associazioni e delle parti sociali, accogliendo così emendamenti e proposte inclusi nel testo finale. Anche proposte di emendamenti giunte da singoli cittadini attraverso il web sono state considerate per la redazione del testo finale. Lo statuto definisce principi ispiratori, obiettivi strategici e regole di funzionamento della nuova istituzione metropolitana. E' norma le procedure e le modalità per l'adozione, con il voto vincolante dei sindaci, degli atti fondamentali dell'ente, piano strategico triennale, piano territoriale generale, bilancio. Insieme allo statuto è stata anche adottata l'articolazione territoriale della città metropolitana in 11 zone omogenee, ciascuna delle quali guidata dall'assemblea dei sindaci. Sindaco, dopo il voto del Consiglio metropolitano, un altro segnale importante di compattezza, di condivisione del territorio? Sì, è molto importante che questa mattina la conferenza metropolitana, cioè l'assemblea dei sindaci della città metropolitana, abbia approvato a larghissima maggioranza lo statuto. Lo statuto è la carta fondamentale che disciplina il funzionamento dell'ente, ne definisce gli obiettivi, ne definisce i principi ispiratori. Lo statuto è, insieme alla legge, lo strumento con cui noi gestiremo quotidianamente la vita della città metropolitana. Questo testo è stato oggetto di una consultazione che è durata settimane e settimane in tutti i territori della città metropolitana, coinvolgendo e ascoltando tutti i sindaci. Sulla base delle loro proposte e degli loro emendamenti abbiamo redatto un testo finale, arricchito anche da molte proposte che si sono venute da singoli cittadini attraverso il web. Tutto questo ci ha consentito di avere un testo che stamattina ha ottenuto una larghissima condivisione e io credo che questo sia importante. 181 sindaci, il 91% dei sindaci presenti ha votato a favore, soltanto 17 estensioni e 3 contrari. Credo che sia un buon modo di partire. Adesso dobbiamo metterci al lavoro per far funzionare bene la città metropolitana e corrispondere alle aspettative dei nostri cittadini. Partiamo col piede giusto. Comincia un lavoro di costruzione della governance anche a livello locale, nelle zone omogenee? Sì, questo è uno degli aspetti più importanti dello statuto che, considerata l'ampiezza della città metropolitana, il numero di comuni, noi siamo 315 comuni, un territorio che arriva fino al confine con la Francia e con la Valle d'Aosta, articola e suddivide la città metropolitana in 11 zone omogenee, ciascuna delle quali sarà guidata dall'assemblea dei sindaci, in modo tale che nel funzionamento della città metropolitana ci sia non soltanto il consiglio metropolitano, cioè i 18 rappresentanti della città metropolitana eletti a novembre, ma anche siano valorizzati i territori e i sindaci di ogni territorio e si tenga conto, nelle politiche che la città metropolitana dovrà fare, dei territori di tutta la città metropolitana, sia quelli più vicini al capoluogo, ma anche se quelli più lontani, perché noi vogliamo costruire una città metropolitana in cui tutti i comuni si sentano parte e tutti si identifichano in una città metropolitana e concorrano alle politiche comuni per degli obiettivi di prosperità, di sviluppo, di crescita di lavoro comuni.